Il formidabile ritorno di Antonito Gordò, il grande impatto di Stefano Rossini alla guida del Carpanetto, tanti gol, immagini e commenti. È stata come al solito ricchissima l'ultima puntata di Zona Calcio, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi in onda ogni lunedì alle 20.20 su Tele Libertà. L'asso francese ha ovviamente parlato delle emozioni vissute sabato, con il gran gol da tre punti siglato contro l'Olbia, al suo secondo debutto in maglia Piacenza dopo il ritorno da Trapani. Meglio di così non potevo andare, poi prima di tutto per i tre punti, poi ovviamente per i gol, sono molto contento. Ma come è nata la possibilità di ritrovarti qui a Piacenza dopo quell'addio in estate? Quando e soprattutto se ci sono state delle difficoltà nella trattativa o se la tua volontà è stata decisiva? Quando sia il giocatore sia la società vogliono le stesse cose alla fine difficoltà non si trovano. Ci abbiamo messo un po' perché comunque c'è anche da parlare con il Trapani, quindi ci abbiamo messo un po' però alla fine meno male è andata a buon fine. A proposito di piace, Stefano Rossini ha ricordato il suo passato in bianco-rosso. Cagni ad esempio qui mi ha fatto maturare tantissimo a livello di persona, di uomo proprio, mi ha fatto capire e qui dopo si apre tutto un dibattito perché lui mi ha fatto capire cosa vuol dire avere la cultura dell'allenamento. Però non è che gli altri non me l'avessero detto, ero io che ero più ricettivo perché tutti te lo dicono. Quindi poi dopo quando te lo dice una certa persona non è che è stato più bravo o meno bravo, sei tu che sei più ricettivo in quel momento a capire determinate cose. Immancabile un commento su Silla, vero prodigio dell'attacco del Carpanetto. Una volta per dimostrare di essere un giocatore di una categoria dovevi fare tre anni in quella categoria, adesso fai tre partite e sei già un giocatore di categorie superiori. Io dico che ci vuole pazienza e bisogna stare, perché sono un ragazzo anche che guida solo, senza la famiglia, si fa presto a fare dei voli pindarici, ma bisogna stare sempre con i piedi per terra. E comunque è un giocatore che ha dei margini di miglioramento che secondo me neanche lui immagina, neanche lui sa. Le repliche di zona calcio andranno in onda nel corso della settimana, oggi alle 21.30 su Tele Libertà 2, canale 289, giovedì su Tele Libertà alle 21.30 e sabato alle 23.45 ancora su Tele Libertà 2.